ciao ragazzi bentornati sul canale ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui a monticello di che fa guardate la leva guardate la ruota guardate la ruota guardate la ruota una sbigliate con la spalla guardate la ruota guardate la ruota guardate la ruota che ti va a combina oddio un po' troppo veloce sono saltato pure io guardate la ruota ma che sta a fa? no, non ci posso creare queste pasticchie che poi sta veramente non prende anche niente raga scusate e che fai? non la cambi dalla fine? non la traisco le tave l'uomo frana 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 l'uomo frana